E benvenuti ragazzuoli in un nuovissimo video di Fortnite, un bel like ozzo mi raccomando prima di partire perché quest'oggi raga parliamo proprio del Winterfest che arriverà tra qualche giorno perché sembrerebbe essere confermato questo Winterfest, i regali di mezzo inverno dell'anno scorso E parliamo anche degli aerei che in un trailer si sono intravisti, insomma adesso ci arriviamo ma prima siga come sempre e siamo pronti a partire Eccoci qui boys, volevo farvi subito vedere questo trailer che è stato inviato ad alcuni utenti tramite email per un messaggio di augurio di Natale ragazzi da parte di Epic Games E guardate che cosa si intravede in questo teaser di Natale che appunto è stato inviato ad alcuni utenti Guardate un pochino, innanzitutto ci dicono Hoping your holidays are filled with legendary supply drops, your friends at Epic Games, mamma mia che inglese Insomma sperano che le nostre vacanze siano piene di rifornimenti leggendari e già qua va bene Ma andiamo avanti con il video ragazzi, guardate che cosa succede Praticamente si intravede una nuovissima skin, esatto come potete vedere qua Che ancora non è stata rilasciata, esattamente questa qui del pupazzo Già precedentemente liccata ed annunciata prima come skin il regalo di questo Winterfest di cui ancora non se ne sa moltissimo E poi come skin boss snowman in una cittadina sotto gatto green, quella montagna innevata di tank al K2 il monte più alto Nella mappa di forti In ogni caso ragazzi tra l'altro vediamo qua che c'è un'altra skin La skin praticamente del bastoncino zucchero, quello lì rosso e bianco che si mangia anche Quindi potrebbe essere anche questa una skin Magari il regalo con l'arrivo di questo Winterfest insieme appunto a questa skin qua E poi ragazzi notiamo una roba stranissima In alto a destra l'aereo, arrivato se non ricordo male della season numero 7 Portatore di una marea di kill ingiuste Soprattutto alcune che vabbè lascia perdere Perché era davvero impossibile scappare a questo aereo Se ti veniva addosso, ti colpiva e ti ammazzava, ti trucidava Un po' come il robot che si è poi aggiunto nelle season Dopo in ogni caso ragazzi appunto evolutiamo tre nuovissimi spoiler in questo trailer Cioè l'aereo che potrebbe ritornare nella mappa di Fortnite Due nuove skin che potrebbero essere quelle magari il regalo In questo nuovissimo Winterfest 2020 Visto che nell'anno scorso appunto c'erano stati i regali di mezzo inverno Magari quest'anno ce li ripropongo in una maniera differente come sa fare Epic Games come tra l'altro hanno differenziato le sfide e tutto il resto che c'è Su Fortnite ci potrebbe assolutamente stare E quindi ci tenevo a mostrarvi questo trailer qua ragazzi Perché appunto si vedono due nuove skin L'aereo ritornare con tra l'altro i regali dietro ragazzi Questo fa presa a gire Già che ci potrebbe appunto essere un altro Winterfest 2020 appunto come quello dell'anno scorso E abbiamo anche tra l'altro la skin del Babbo Natale della season numero 6 Se lo ricordo male forse addirittura 7 Non mi ricordo ma comunque che guida l'aereo con la punta tra l'altro Del pupazzo di neve ragazzi Che rilascia appunto questi regali Quindi ragazzi staremo a vedere possibile ritorno anche dell'alcio granate raga A palle di neve perché giustamente qui lo vediamo in mano a Snowmando E speriamo ragazzi insomma voi cosa ne pensate innanzitutto scrivetemelo qui sotto Nei commenti Vi faccio vedere già che ci sono anche queste skin Potrebbero ritornare appunto alcune di queste che ci sono qui dietro Di me abbiamo Kane, abbiamo lo Skull Trooper Data l'inizio e abbiamo la faccina della palla di neve con dentro l'alberello Non so come definirla In ogni caso queste tre skin potrebbero ritornare anche loro Con l'arrivo di questo nuovissimo Winterfest 2020 E quindi ragazzoni grazie a tutti per aver visto questo video Spero che vi sia piaciuto codice creatore lucioso del negozio oggetti di forti Vi aspetto domani con un nuovissimo video barra live E niente un bacione ragazzi ci vediamo domani Bella voi Ho sentito dire in giro che tu ancora non mi stai supportando come creatore? Che cosa? Bene vai subito nel negozio oggetti di fortnite Clicca sulla voce in basso a destra Supporta un creatore ed inserisci il codice Lucius maiuscolo o minuscolo che sia non cambia nulla Cliccate su accetta e mi raccomando taggatemi nelle vostre storie di Instagram Mentre shoppate con il mio codice che vi riposterò a tutti dal primo all'ultimo Ciao Ciao Ciao